La processione dei misteri di Erice è uscita dalla chiesa di San Giuliano alle 15 per poi percorrere le vie del Borgo Medievale in un'atmosfera carica di fede. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, la processione dei misteri di Erice è tornata ad uscire dalla chiesa di San Giuliano per poi percorrere in un'atmosfera molto raccolta e con il sottofondo delle preghiere dei fedeli, le strade estelciate del paese, immersa com'è nei silenzi e nel magico contesto del Borgo Medievale, offrendo davvero un forte senso di raccoglimento. E sono stati davvero tanti visitatori che ieri pomeriggio hanno potuto ammirare questa suggestiva processione che sembra davvero essersi fermata nel tempo, mantenendo la sua semplicità e devozione. È una processione davvero molto affascinante e carica di significato e al calare della sera, complice al gioco di luce e ombre, diventa ancora più suggestiva, regalando davvero una pioggia di emozioni. Tra i momenti più belli c'è sicuramente il passaggio sotto l'arco di San Pietro o lo stesso rientro nella chiesa di San Giuliano attorno alle 20, quei colori del crepuscolo che lasciano campo libero alla sera e il paese che si immerge nelle sue magiche atmosfere notturne. I gruppi sono in tutto sette e rappresentano i momenti della passione di Cristo, ovvero Gesù nell'orto dei Gezzemani, la flagellazione, la coronazione di spine, l'ascesa al calvario, il crocefisso e l'urna. Chiude la processione, l'addolorato, un'immagine della Vergine davvero stupenda, avvolta nel manto nero. Il corteo religioso è però aperto dal piccolo gruppo dei Piccirilli. I piccoli muntisi hanno fatto un loro gruppo con vara ed aste all'altezza giusta per portarlo a spalla con tanto di ciaccola. Questo ha conferma del forte attaccamento degli aricini per la processione del venerdì santo, una tradizione quanto mai viva nella comunità del monte che si tramanda di generazione in generazione. Ad inizio della processione ci sono i figuranti con addosso una tunica bianca ricamata di rosso, i colori usati dai frati della congregazione del purgatorio. Le statue dei gruppi sono più piccole rispetto a quelle trapanesi, ma si inseriscono perfettamente nel contesto ricino. Non c'è poi la tipica annacata a suon di banda musicale dei misteri di Trapani, anche a causa delle continue pendenze delle stradine seliciate di Erice che rendono il trasporto decisamente più faticoso e difficile. I sette gruppi vengono portati a spalla per le viuzze acciottolate del borgo, ma durante la sosta appoggiano su delle forcelle che aiutano i portatori durante il tragitto per il vasolato, che a causa dei dislivelli e della caratteristica pavimentazione delle viericine costringe i portatori a cercare anche il giusto equilibrio del vasolato, stando sempre attenti a dove mettono i piedi. Il movimento che ne viene fuori durante il viaggio dei sette gruppi è davvero particolare e va ad arricchire ancora di più la magia del venerdì santo ad Erice.